La discriminazione delle donne. La discriminazione è un trattamento inappropriato nei confronti di un individuo in una società come questa, è inaccettabile, è veramente inaccettabile. Le donne sono sotto pregiudizi. Le violenze vedono i loro divi calpestati. Calpestati. Quali sono i paesi interessati? Tutto il fatto! Eccoci. Grazie a tutti.